Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Nuovi nomi si uniscono alla serie TV Bird of Light di Birch Akalai e Ibrahim Selicol. Nuova stagione in arrivo su Netflix, sia con il cast che con la trama. Nella seconda stagione di Bird of Light, che attira l'attenzione, tre nuovi nomi si aggiungeranno al cast. Attori famosi Birch Akalai, Ibrahim Selicol, protagonisti di Bird of Light di Ayaipm. Mirai Danar, Ire Masak e Def Nkeyalar. Ecco i nomi che si uniranno al cast di Bird of Light. A breve inizieranno le riprese della nuova stagione della serie, seguita con grande interesse sin dalla sua uscita. Vedremo tre nuovi nomi nel cast della nuova stagione. L'esperta attrice Tilbe Saran interpreterà il personaggio di Zerrin, un giornalista di successo, nella serie. Il secondo nome ad unirsi alla serie è stato Burak Sirgen. Sirgen è apparso l'ultima volta nelle serie TV Sadakaze e Smile Kaderine. Arif Piskin è uno dei nuovi nomi che prenderanno parte alla nuova stagione di Bird of Light. Arif Piskin ha interpretato il personaggio di Tahirin Rose tale. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.